Non voglio sembrare presuntuoso ma così la trovate solo all'autobaselli Mercedes classe unica al mondo, vettura condotta da un unico proprietario dottore commercialista bergamasco, sempre tagliandati in concessionario ufficiale e con solo 42.000 km, avete capito bene? 42.000 km versione accessoriatissima con cambio automatico, fariseno, navigatore, il dottore non se ne sarebbe mai separato, ma i suoi collaboratori gli hanno consigliato di sostituirla per motivi fiscali con l'anno nuovo, così me l'ha ceduta ieri, non l'ho neanche lavata e con tutti i tagliandi Mercedes, fatture alla mano Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!